Ciao benvenuto nel canale Juventus oggi, canale incentrato, porta notizie dalla Juve, prima delle notizie, ti chiedo di iscriverti al canale per non perderti niente della Juve, Massimiliano Allegri, intervenuto in zona mista dopo il pareggio con la Salernitana, le dichiarazioni, di Allegri. Ha detto Allegri, i primi 20 minuti eravamo in carica, poi c'è stato un errore e abbiamo imbalsamato. Il secondo tempo è stato un buon secondo tempo. Per rispetto, non parlo con gli arbitri, dovrebbero stare calmi. L'arbitro ha fischiato bene, quindi alla fine purtroppo non abbiamo vinto la partita. Bene, ma ho detto ai ragazzi che bastava un gol per innescare la rimonta e basta. Abbiamo avuto molte occasioni per il 3-2, poi ce l'abbiamo fatta. Ma loro l'hanno colta. Se avessimo vinto oggi saremmo rimasti indietro di due punti, ma dobbiamo lavorare, la reazione c'è stata. Allegri ha parlato anche della partita contro il Benfica. Ora mangiamo e proviamo a prepararci meglio per la partita contro il Benfica. Secondo me, la Juve non può perdere punti contro la Salernitana. Con buona pace della Salernitana. Ma la Juventus è molto più grande. Per quanto riguarda, il Allegri non riesce a colpire la squadra. Da dove viene già la Juventus tre partite senza vincere? Ebbene questa è la mia opinione. Lascia il tuo nei commenti. Miei amici, il video sta finendo. Ciao alla prossima volta.